Auguri ai cittadini di Gran Michele, soprattutto ai giovani, alle donne e a tutte le famiglie, alle imprese di Gran Michele. Auguri di Buon Natale e di un anno 2014, speriamo, più positivo. Viviamo una crisi drammatica, una crisi forte. Io spero di dare anche un contributo, anche come opposizione, alla città per creare maggiore sviluppo e occupazione, perché io so che il problema di tutte le famiglie è il lavoro. Purtroppo l'amministrazione è iniziata da poco, da pochi mesi, sei mesi, quindi non bisogna aspettarsi molto. Però la nostra impressione come opposizione, abbiamo visto che ancora non si muove nulla, la ordinaria amministrazione va da sé, va avanti da sola, anche il Consiglio Comunale vive una situazione quasi di stagnazione. Io spero che per il prossimo anno, lo faccio un invito anche all'amministrazione, al Presidente del Consiglio, che ci sia più dibattito nella città, ci sia più confronto, che si attivano di più i giovani. Non esiste la consulta dei giovani, bisogna invitare i giovani, non c'è la consulta degli imprenditori, bisogna attivare una consulta delle imprese, una consulta del mondo del lavoro. Ormai, lo sappiamo, funzionano così i comuni, non ci sono risorse economiche, quindi bisogna attivare le idee, la partecipazione dei cittadini, la partecipazione allo sviluppo. Io faccio un appello proprio anche a... faccio parte della Commissione Sgruppo Economico, ci siamo visti solo una volta, però questa Commissione è fatta anche di persone volenterose. Spero che questa Commissione si attivi, ho parlato anche con alcuni componenti del Consiglio, con Giancarlo Giandinoto, che possiamo attivare per il prossimo anno un dibattito dentro il Consiglio Comunale e dentro la città sul bilancio e sullo sviluppo economico. Proprio io proporrò un piano strategico per lo sviluppo economico. Avevo proposto nel Consiglio Comunale una mozione che è stata approvata dall'unanimità, ma non c'è stata nessuna conseguenza, non c'è stata nessuna iniziativa successiva. Capisco che è molto difficile la costruzione del Consorzio dei Comuni, perché i fondi arrivano dalle idee e poi dai fondi europei. Sfruttare i fondi europei, ma per sfruttare i fondi europei bisogna mettere in rete i comuni, bisogna mettere in rete le associazioni, le associazioni degli imprenditori, i singoli imprenditori. Quindi il mio augurio per il prossimo anno è che Gran Michele recuperi quella funzione di leadership che ha avuto nel passato nel comprensorio. Gran Michele e la cartista di Gran Michele sono le proprie imprese nel settore agricolo, nel settore artigianale, perché se no assistiamo in maniera passiva allo spopolamento. I ragazzi se ne vanno, centinaia di ragazzi se ne stanno andando nella nostra città, non possiamo e neanche possiamo aspettare che gli altri ci risolvano il problema. Non possiamo aspettare. Noi dobbiamo costruire progetti, li dobbiamo costruire dalla maggioranza, dall'opposizione, dai cittadini. Questo è il mio appello per il futuro. Io spero, come dice, lo dico a tutti quelli che da casa ci ascolta, dico ai giovani innanzitutto. Giovani, partecipate, perché poi è la politica, né bene né male, che dà le risposte. La partecipazione è fondamentale. Chiedete di partecipare alla vita democratica della città. Dico alle imprese, agli imprenditori, chiediamo un patto, facciamo un patto per la città, perché questa città, la cartista di questa città è stata sempre la propria capacità, la propria attività imprenditoriale, che in questo momento veramente è in difficoltà estrema. E poi tutte le agenzie di servizio, facciamo anche un piano per il turismo, perché i cittadini, come dice, il turismo non viene da solo. Va promosso, vanno contattati i tour operator. Insomma, questo è quello che io non mi rassegnerò mai, di proporre questa cosa. So che è difficile, e certamente uno rischia di essere una voce isolata, ma io sono convinto che invece la riscossa e il cambiamento passano attraverso un'ampia partecipazione dei cittadini. Noi l'abbiamo detto, facciamo opposizione in Consiglio Comunale, ma quando vengono proposte le cose positive per la città, noi siamo i primi a votarli, a proporli, siamo anche disponibili a proporre dei progetti. Io spero che nelle prime settimane, nel prossimo anno, e questo l'augurio che faccio a tutti noi, possiamo cominciare a lavorare mettendo idee, sia da parte della politica, ma anche da parte della società civile, per affrontare il tema principale che assedia, che assilla tutte le famiglie, quella del lavoro. Quindi auguro un buon Natale a tutte le famiglie, a tutti gli imprenditori, soprattutto ai giovani e alle donne, che sono la speranza per il nostro futuro, e un buon 2014, speriamo che il 2014 sia l'inizio per ricominciare a pensare allo sviluppo della nostra città e del nostro corso.